L'Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Benevento sfiducia Antonella Pepe. Lo ha deciso ieri alla Rocca dei Rettori con una mozione sostenuta da Giuseppe Ruggero che dopo il voto del 25 settembre aveva accusato Pepe di aver scavalcato le decisioni della dirigenza Democrat per imporre la sua candidatura. Un dibattito aspro aperto dal segretario Giovanni Cacciano in cui il PD Sannita torna a consegnare nuovamente lo scettro ad Umberto del Basso De Caro che commenta Non ci dobbiamo attendere nulla di traumatico, i partiti non parlano sui giornali parlano negli organismi, nelle sedi proprie si può e si deve discutere, ci si deve confrontare e poi alla fine un dibattito si conclude con un voto, con un documento politico che dice dove il partito vuole andare, qual è la direzione di marcia quindi non ci sta nessuna volontà né di epurare né di rompere c'è la possibilità e la volontà di ricostruire. E Antonella Pepe dice la sua attraverso i social la colpa da espiare essermi candidata in un collegio considerato ampiamente perso l'accusa? Quella di essere di parte, di aver detto sì ci sono nel momento più difficile per la nostra comunità io e non chi tanto aveva avuto dal partito salvo poi rinunciare alla candidatura per la incontendibilità del collegio non sono più presidente dell'assemblea, conclude eppure il resto dove sono? Le esprime solidarietà e vicinanza all'europarlamentare Pina Picerno mi batterò perché si ripari questa scelta senza senso annuncia la vicepresidente del Parlamento europeo che tagga nel suo posto anche il commissario regionale del partito Francesco Boccia